E lì dove sta Questo è un game dove dobbiamo scalare 3 tp Porca puttana Oggi ho fatto spalle e sono distrutto Emo una settimana è meglio Emo contabili lo pago all'incirca 35 euro al video 35 euro al video Che so, metti caso lo facciamo per 4 So 140 euro al mese Ed il problema è che 640 euro al mese Non mi portano Niente E non è che ci l'hai fatto da due mesetti Lo sto facendo da Da un anno e mezzo quasi E non mi ha portato Né viewers in più La prima cosa che mi ha portato è un leggero aumento delle visual su YouTube Perché magari prima Le class facevano 1800 2000 Ora col titolo giusto faccio anche 7000 3000, 3000, 3000 di media 3500 li faccio, quindi un po' sono saliti No Poi fortuna c'è il non-cut che mi Eh, che riservo se vola No, sul canale principale farò 4-3 euro al video Eh sì, abbiamo Però col canale non-cut Ultimamente stanno un po' peggio Però all'incirca mi facevo col canale non-cut 150 euro al mese Me lo ripagavo quello E per giù 150 euro al mese lordi Bell'anettini Ma niente, è un po' di bloccare mia Signorina-signor Jennifer, mio cugino Dimmi tutto, cugino Speriamo, speriamo Sì, è stato abbastanza morto, decisamente Però mi piace che il canale YouTube è un po' Vivo Cerchiamo la kill qua ragazzi, eh La domanda è se la troveremo Oioioi Ho le doppio hit Ma Ma sto sì, ho anche fatto Eh, volevo killare il minion Fare il livello Prendere l'arancia E killarlo Il problema è che appena sono andato al camion Ho detto, che faccio? Faccio come lo attacco Di nome l'attacco o di Q? Eh, puoi di, boom Vabbè, che pigna Vabbè, pure una di Sion Vabbè, che pigna Ma io, tra me e questo Non so chi è peggio Stiamo giocando tra me malissimo Sera cane Eh, 2-1 a lui Spero la Lucius Che non è più top Che non è più top Building il mano Potrò giocare 100 volte meglio Potrò flashare in avanti Verso sinistra Ma era comunque difficile La condizione come la doggiavo A parte Talon mi avrebbe sciottato Talon è enorme Non pensavo fosse così grosso 4-2 Talon Il caso mi sa bene Bullet Angel Io e Sio sono giocato di merda entrambi Win a boss easy ho voglia Agp ragazzi Anche se perde il game Comunque strong Ma che ha fatto che Azir Azir poteva Fa double kill Ma perché Diana Perché Diana è livello 28 Cioè è livello 5 Eh ragazzi Questo è il nome mio Bene Merda We scale We scale We scale Questo game è un po' sospetto fra tutti Questo game è un po' strano eh Un po' troppo strano Prima di questi anche Bye bye Yop Che do'rho fa Che do'rho fa Che do'rho fa solo 279 gli ho levato un po' pochino cazzo parco dio c'è il face rush perché ho ultato di nuovo ho trollato ho trollato ho trollato buono mid bravi ho trollato buonasera buonasera signor akime signor akime buonasera oddio kaisa è pazza è pazza boom brava kaisa fammi sognare ah si ho anch'essero in cura tanto scappa il bait il top king preso l'assist va bene c'è l'assist l'exp c'è altri prima esassion diana ringaggia oddio diana il comeback di diana come è possibile diana si kill azir 1v1 cioè pure sta cosa riot games come cazzo è possibile usciamo su tutti i bot anche talon ma ti giuro sta cosa è impossibile mate veramente quelle cose che non non potrebbe accadere cioè si è andato stride perché moddiana stride c'è town di là quindi scappiamo verso di qua arrivo mhm Lì Il Top King Lo fermo qua non mi muovo La knowledge del Top King Si va a far sentire anche qui Molto bene Via Ed eccoci qua Ma che sto vedendo Ma sto game è stranissimo C'è qualcosa in sto game di molto strano Di molto oscuro Peccato no mana Ma ci penso io sia un state tranquillo fra Lì dici? L'assetto? Non mi ha dato Wait Perché? L'assetto non mi ha dato i soldi? Ma Diana No vabbè Questo è proprio champ diff Champ diff Champ diff Olè Ok Continua a push Vai a lavorare Vabbè vede Sei qua da tre ore Ora lui deve andare a lavorare adesso Ok non puoi puntarmi sulle storie di stacristo Ma di te Sei puntato E vedi pure da averle fatte Quelle flessioni Niente In minion purtroppo hanno deciso che mi dono un po' di bloccare lì Andata così purtroppo Collector L'arancia sto aspettando di usarla ragazzi Sto aspettando Perché c'ho il prole Poi mio mi hanno bloccato ed ero morto lo stesso Anche solo l'arancia Ma è il meccoledì della gnocca? Meccoledì di gnocca E certo è proprio lui Signor cutolo È il mercoledì De la fesh Io sto lavorando come un cane oggi Santo cielo Vedete ma Ma quanto lavoro ti danno Porca miseria Tocca Tocca Fare rapporto Al boss Che Ammon Ti fa Over lavorare Io lo sono Calcio di mare L'arancia Ok Speedmaster Alla Chi era per loro Bravo su raga Io sono sopra di lui Lol Oddio Signor Ammon E questa cosa Non ce l'ha detta No lei non è sotto di me Io sono sopra di lui Ragazzi Di che cosa stiamo parlando Magari tu lo fossi Fare il casalingo instant Ma di cosa Non lo sto capendo ragazzi Sopra Mamma mia rider Vaffanculo E niente niente Purtroppo dio un cancro Non volevo dire la parola Con la C ragazzi Chiedo scusa Che vedo rider Scusami Chiedo scusa Mi è venuto proprio Istantaneo dire questa cosa Non dico mai la parola con la C Lo sapete ma Ho visto rider E' stata una risposta Proprio istintiva Ricordi come si chiamava Mag 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 I am Mag Mag Mi sa Aspetta Mag Mag Sì sì ho Tipo i Gragas Mi ricordo Oh my Mag Oh my Mag Si si chiamava Perché Ma è fermato Da Twitch Perché Ha fatto conto Che ha fatto il sub Tipo due settimane fa Pidora Grazie il follow Ha anche il light Boh rider Si è costino Ma il fatto è che Lui stacca dopo di me Cioè prima di me Capito Va a flammarlo No voglio se lo stavamo Con gli altri rider Lo beccavamo sempre E il topping è pazzo Ragazzi Bene Bene La sorpresina Hanno preso Stato Surpresina Hanno preso Dunque vi ricordo ragazzi Vi ricordo Che sono usciti due nuovi pezzi Dello store Cioè del merch La tutta da pressure Che tra l'altro Per le size Ragazzi C'è da me prima Se volete acquistarla Perché Ha delle size un po' strane Cioè tipo io di solito Porto L Con cui portavo L E L mi stava leggermente Larga Ho preso lì invece Che il coso Quindi Dovreste prendere M O viceversa Dopo la prendo Punto e scambio Merch Tra l'altro Se hai abbastanza pagnotto Puoi andare nel Punto e scambio Non c'è Deo scuola Non c'è Vuole un mutante I bei boxerini Molto Povero Zrial Vabbè Lo sapete Vi dico Porco Porco me Porco me Bello 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 Coloso Ho felato Tutte cose Potevo felare Lo 2p Grande Ryder Oh wow Senza smite Ryder Solo Sparapau È il frattato Del penguin Questo non lo so Hai staccato Da tu Di Shrider Oddio L'aveva combinata Il top king L'aveva combinata Ma ogni volta C'è tutto Il team Figlio di puttana Sarà più Dalian La notte No Acuto Dai Ehi Ehi Vabbè Venite tutti a killare GP Bravi Tutti a killare GP Bravi Vi divertite così Mi divertite così Ok Vedrai che te li lascio Boh Via Ediana è bella Grossa Vai vai Morta Guarda guarda Zirella Zirella Vado io Vado io Zio ma che mi combini Vado io No Guardato Dai Manca a fare così Però Stavo a fare Una cillata Così per ride Mamma mia Uno Un po' Manco scherzà Troll Ma che troll Stavo così Stavo a ride Un Scogliardia Così Tanto per E boom Manca a fare così Veramente Taro è Taro è bello Grosso Un po' Ne ho alzo bot A me? A me Speedmaster? Scusami, guy Non si prende il primo Per gli alleati Chiedo solo per capire Don't ask me nothing Anch'io pensavo così Da ieri abbiamo capito L'altro Taylor Javot Ti consiglia? Ah no, one kaga Non so che sia Ma stupido Ho fatto due crit Ma ho levato 658 Doppio crit Ma che Ma che danni metti raggiù? Eh, non c'è Ieri don't Però per te Io ti rapporto a te Speed Mi fai tiltare Ciao gana Volevo dirti Se puoi ci barili Fai danno Grazie, grazie Lo stesso danno Che tu nel cervello Rumia Probabile Buono, bravi Mi dissocio Vabbè, ma Per ridere, mate È pazza, Diana È pazza Tipo bot Forse il TP Non è stato Il migliore Ho sbagliato Tipare qua Potrei aver fatto Un errore Che può capitare a tutti Ricordiamo Anche se il top king È perfetto Small team gap I sold talon A little bit top L'unico I'll Cap Che Le Let Qu La Can lui mi ha scritto il ritardato io non posso scriverlo ok il rete era andato via Sasha appena visto che è ritornata ha detto mamma mia Sasha che palle e se n'è andato di uno ancora no più 15 rega madonna 39.051 tira top damage ha detto madonna Sasha che palle grazie a tutti Grazie a tutti.